Allora, sicurezza svapo, visto che ultimamente i tubi esplodono come se non ci fosse un domani, neanche fossimo in guerra con tutto il mondo, tubi esplosi e si è parlato anche in specifico, non vado a parlarvi di queste cose perché ne ho già parlato tutti, in specifico volevo solo parlarvi della sleeve che ne è stato parlare, sono state dette cose non cose, la sleeve della batteria è questa, in pratica quella che trovate sia sul Tomahawk, sia sul Totem o sul Ghani, tutti i prodotti di Vapor Smooth, Gianluca Cesati, questa è la sleeve per la batteria, che cosa fa sta sleeve per la batteria? Questa sleeve copre una batteria in pratica, la isola fa sì che anche se malauguratamente fosse svrappata, fa sì che non vi vada in corto, questo non vuol dire che non dovete controllare, dovete controllare ogni cosa del vostro atomo, la resistenza, le batterie, ogni cosa dovete controllare, è perché parte prevalentemente dal fatto che ultimamente per moda o per seguire la massa migliaia e migliaia di ragazzini o adulti ma senza esperienza si sono avvicinati al mondo del subom, quindi sotto l'om, per appunto per moda, quindi senza avere le esperienze, le competenze necessarie, è da lì che poi succedono, succedono i disastri, ma io volevo focalizzarmi sulla sleeve, la sleeve si era stato detto non serve la sleeve, serve che uno controlli le batterie e via discorrendo, è ovvio che si può, io ho svappato per anni senza senza la sleeve per la batteria, è ovvio, anche le macchine prima le guidavano senza il freno ABS, però anche qui è innegabile di quanto l'ABS ti salva il culo moltissime volte, la sleeve serve perché se fossimo tutti competenti, tutti studiati, tutti professori, non servirebbe la sleeve perché uno si controlla tutto, fa le cose perfettamente, mette il wrap sempre integro, la batteria è sempre nuova, visto che non viviamo nella realtà, non nel mondo dei sogni, quindi queste cose succedono, specialmente come dicevo, dato dalla mole di gente che si è avvicinata allo swap, prevalentemente al cloud chasing, magari non controllano bene le batterie, non danno importanza al wrap, queste cose, per questo che secondo me la sleeve è molto utile, poi è ovvio, saper imparare a fare le cose è la base, non potete, milioni di video su YouTube che vi insegnano a fare le cose fatte bene, almeno alcune, quindi, però è una cosa in più, riassumendo, io stamattina volevo rivrapparmi una batteria che era veramente messa male, ho pensato, vabbè ci faccio il video, ho svrappato questa batteria, è una Sony VTC5, lo svrappato, adesso, batteria qua, completamente svrappata, vecchia, brutta e cattiva, eccola qua, è una Sony, da qualche parte ci sarà scritto, non comunque, VTC5, eccola qua, una Sony VTC5, sto tenendo il dito sopra qua perché c'è quel pezzo di isolantino che voglio usare, comunque l'ho svrappata, ci metto la sleeve, per cortesia non fatelo a casa vostra, non fatelo assolutamente, io lo sto facendo solo così, cioè, lo voglio sottolineare, non fate questa cosa qua perché è pericolosa, in generale, poi, sui tubi verter smooth, no, poi, la metto dentro al tubo, atomo attaccato, batteria svrappata, metto a posto la, il, messa a fuoco, adesso ci metto il, il tasto, ok, batteria svrappata all'interno, ecco, attivato, questo è per dire quello che vi ho detto prima, non fate queste cose, assolutamente, controllate il wrap, assolutamente, fatevi una cultura di base, da capire le due, tre leggi, la legge di Ohm, VW, via discorrendo, un minimo, se vi piace questa cosa, se no vi prendete un RX200 e che il TFV8 o il TFV4, non dovete neanche rigenerare, ha le testine che si cambiano, vi durano un mese l'una e lì siete a posto, tranquilli, non dovete neanche farvi la resistenza, fate un botto di vapore, perché se il problema è far vapore fate un botto di polma veramente tanto e non avete problemi, se poi vi piace il prodotto per un fattore estetico e via discorrendo, una passione come per me e come per molti altri, allora le cose cambiano, dovete però farvi un minimo di bagaglio, di esperienze. Comunque, la batteria l'ho messa dentro, svrappata, solo sui tubi di Beppe Smooth ci fate queste cose, non lo farei su un altro tubo con sicurezza, quindi era solo per chiarire, sleeve è logico che serve, logico che in un mondo ideale sarebbe bello se tutti, tutte le persone che si approcciano allo svapo prima si facessero un po' di cultura, prima apprendano le tecniche, le leggi di home e come svapare in sicurezza, però visto che non è così, visto che molti ragazzini prendono lato il tubo solo perché è di moda, non sanno neanche chi lo fa, non sanno neanche che cosa vuol dire, non ne frega un cazzo, lo prendono perché lo prendono tutti e questi qua sono pericolosi, sta gente qua è pericolosa, quindi la sleeve ben venga, assolutamente, punto.